Controlli dei NAS ad ampio raggio in provincia di Salerno. A Sarno, dopo aver controllato una macelleria del centro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 80 kg di prodotti non tracciati. A Battipaglia, invece, dopo un controllo svolto presso un pannificio, sono stati ritirati dal mercato circa 300 kg di prodotti da forno su gelati, privi di tracciabilità. Infine, in un bar passicceria di Atrani hanno sottoposto a sequestro 100 kg di prodotti dolciari, presentati agli ignali acquirenti come produzione propria, ma di fatto acquistati presso altri rivenditori. Infatti, l'attività produttiva era sospesa a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali rilevate in un deposito dopo una precedente ispezione.